Allora vieni Daria, vieni, prego, accomodati. Eccoci. Allora, oggi è il tuo momento, il tuo turno dell'intervista. Sei tranquilla? Tranquillissima. Ti senti a tuo agio? Assolutamente sì, non vedo l'ora. La mia sorella Sant'Agostino inizia a giugno del 2017 come head coach presso la sede di Via Panfilo Castaldi dopo un breve periodo di formazione. A novembre dello stesso anno mi sono poi spostata con lo stesso ruolo presso la sede di Cimiano che avrebbe aperto di lì a poco dove sono rimasta circa due anni. Da gennaio del 2020 faccio parte del team HR Clinical Staff con il ruolo di Employee Relationship and Engagement. Mi occupo quindi di supportare il personale clinico nella quotidianità, dal momento in cui entrano in azienda in avanti. Parallelamente mi occupo anche della Sant'Agostino Academy, la scuola di formazione nata quest'anno della Sant'Agostino, che offre attualmente dei corsi di formazione in servizio ecografico e diagnostica per immagini. Il mio pensiero fisso è la parola alleggerire, cercare di prendere in carico tutti i dubbi, le richieste di chiarimento, le problematiche e fare in modo che ad ogni domanda corrisponda sempre una risposta. Quando sono arrivata mi aspettavo un ambiente giovane e dinamico e l'ho trovato. Speravo poi di poter sviluppare nuove competenze e crescere all'interno dell'azienda e non è passato molto tempo prima di rendermi conto che questa possibilità era reale. Il mio pensiero più bello è associato al cambio di ruolo, perché è il momento in cui mi sono resa conto di essere realmente in un ambiente in cui le cose accadono e dove nessuna possibilità è preclusa.